Giustation Vi vuole augurare una buonanotte e vuole ringraziare il cuore Marco per l'ospitalità Rapernaio vi vuole e supporto per questa Giustation Marco ancora e vuole Yes Yes e allora questa è veramente l'ultima la voglio dedicare a Marco di fuori mio fratello e a tutti voi svalentini che siano fuori e allora queste caratteristiche quelle le altre sono le mie staccato un libro non lo so farò la dico e non so farò la dico che non fuori una volta sono i stagliari qui buona e non lo so 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.